buongiorno ragazzi buongiorno a tutti oggi è il mio turno e sono andrea re sono un tecnico fitri e sono oggi per parlarvi di gestione dello stress in questo periodo in cui magari stress e ansia si fanno sentire ogni tanto la prima cosa che voglio dire a tutti voi è che noi parliamo di queste cose questi argomenti davvero privilegiati perché chi ha problemi veri seri non sta facendo che sta facendo noi non ci sta preoccupando di come stare di come affrontare al meglio questa situazione e quindi vediamolo veramente un grande privilegio però venendo alla al motivo di questa di questo mio intervento stiamo vivendo un una situazione che ci porta inevitabilmente ad affrontare dei cambiamenti dei cambiamenti che non ci siamo scelti e quindi dobbiamo andare a stimolare le nostre capacità di adattamento è un momento in cui possiamo diciamo se vogliamo dare un nome questo momento possiamo dare il nome sfida questa è una sfida che possiamo affrontare e che assolutamente possiamo vincere con gli strumenti che abbiamo disponibili non dimentichiamoci che siamo dei triatleti quindi capacità di adattamento e disponibilità al cambiamento e attitudine alla sfida non ci mancano però venendo un po al al nucleo di questo intervento si possono si possono generare tra le quattro mura comunque stress e ansia che spesso vengono anche identificati come sinonimi in realtà c'è un po di differenza nello stress abbiamo quasi sempre un identificazione del motivo che ci induce a questa situazione lo stress o l'evento stressogeno può essere una magari il cambio di lavoro una mansione improvvisa che ti viene cambiata ma possiamo affrontarla l'ansia invece è un'emozione un po più estesa è qualcosa di molto più simile alla paura e quasi sempre ci genera confusione timore incertezze quindi a differenza dello stress che possiamo affrontare prenderlo di petto e dominarlo l'ansia se posso dare un suggerimento è meglio se la giriamo come come in questo momento posso provare a dirvelo allora facendo 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 cose facendo cose che noi normalmente facciamo quotidianamente ma non facciamo in modo di non subire la situazione di non accettare di non fare delle cose per forza che ci pesano ma cerchiamo di essere noi attivi propositivi nel fare quello che decidiamo di fare quindi diamoci dei ritmi va bene diamoci dei ritmi quotidiani rispettiamoli e dei ritmi orari e non alteriamoli facendo in modo di riconoscerci sempre però nel darci dei ritmi non cadiamo nella routine decidiamo decidiamo di decidiamo cosa come fare come dedicare il tempo come quando dedicare il tempo alle cose che decidiamo di fare in questo modo con questa diciamo attitudine di attività delle nostre attività possiamo essere possiamo dare più valore a quello che facciamo quindi facciamo un elenco di cose facciamo un elenco di cose per le quali abbiamo gli strumenti per farle e realizziamole facciamo un elenco magari invece degli strumenti che ci mancano per fare cose che non abbiamo ancora fatto e quindi qui ci vuole un po di creatività un po anche di come dire di personalizzazione uno può migliorare le sue competenze informatiche uno può cucinare uno può studiare inglese insomma l'elenco è lunghissimo però veramente ragazzi carta e penna facciamo carta e penna facciamo un elenco in modo che poi noi le cose che vogliamo fare i prioritarie le mette le segnale prioritarie e la mano che le facciamo le spuntiamo come si fa col lavoro va bene quindi posso leggere posso scrivere posso incominciare a fare cose che non facevo perché dicevo che non aveva tempo e quella forse era anche un po una scusa va bene quindi nel concludere questo breve breve semplice ma efficace intervento vi dico due cose limitiamo ci vediamo qua grazie ai social è uno strumento social che stiamo utilizzando veramente molto molto bene continuiamo usare i social solo molto bene non andiamo a litigare con napan 51 con il leone da tastiera che ce l'hanno con i runner che ce l'hanno con i ciclisti che ce l'hanno con gli anziani che ce lhanno con le mamme cerchiamo facciamo in modo teniamoci le nostre idee non disperdiamo energie in discussioni inutili tanto con leone da tastiera abbiamo già perso in partenza lo fa di lavoro lui va bene quindi leviamoci dei social per le cose negative stiamo concentrati sulle nostre cose pensiamo che questo cambiamento obbligato è una specie di sfida che possiamo vincere ma veramente la possiamo vincere perché noi abbiamo le competenze gli strumenti per farlo questa diciamo crisi è un'opportunità è una sfida allora nel provare a vincere questa sfida devo pensare secondo me a tre cose chi ero prima del coronavirus chi sono adesso e come vorrò essere guardate che come saremo dopo e dovremo essere per forza persone migliori e essere pronti dipende molto da chi siamo oggi quindi mi devo sentire una persona migliore già oggi per essere pronto a vincere questa sfida essere pronto essere migliore con tutto sarà finito l'affrontiamo la sfida e la vinciamo dai ragazzi ci vediamo sui campi di gara ciao